buongiorno buonasera a seconda torniamo con questo brand dico torniamo perché non è l'esordio assoluto sul mio canale recensì infatti un altro loro prodotto qua in alto a destra vi metto la scheda anche in fondo il brand si chiama parent watches il primo che recensì era il roga x questo è il roga black and white vi metto anche in descrizione il loro sito internet do due indicazioni veloci innanzitutto legata a questo ovvero che è un orologio che viene prodotto in 100 pezzi tra l'altro numerati sul fondello ma questo lo vedremo tra poco altra cosa interessante mio modo di vedere il fatto che vi sono altre due referenze nuove assolutamente in preordine sul loro sito dategli un'occhiata spero di riuscire a metterci le mani sopra perché credo siano e saranno molto interessanti chiusa la parentesi parliamo è di packaging come sempre in questo caso mi hanno mandato una confezione molto semplice però ben realizzata parlo di layout sia tattile che visivo con l'indicazione peren la vedete sviluppata in lunghezza la si apre un po a sandwich dorme tra due strati di materiale spugnoso nero quello che è il prodotto molto semplice anche la componente cartacea di fatto sono due talloncini le istruzioni rapide e la garanzia una delle cose che apprezzo tanto di peren è il fatto che la matita la mano del designer si vede come non scopiazza da nessuno vanno verso una direzione loro ben precisa poi che piaccia o meno questo è un discorso assolutamente soggettivo ma sono fortemente caratterizzati nel layout i loro prodotti non vanno come molto spesso capita con i micro brand verso come dire direzioni facili di design poi non entro nel merito bella la qualità è anche la scelta per quanto riguarda le rifiniture abbiamo una cassa in questo caso bit blasted quindi una sabbiatura di fatto piacevole che va un po in contrasto con anzi direi parecchio in contrasto con il black pvd della ghiera ma la ghiera la vediamo più tardi una particolarità è chiaro che questo è un orologio che è sportivo quindi è un diver forse meglio dire e definirlo sub però cerca di essere elegante secondo me in parte ci riesce per esempio guardate quanto sono lunghe e affusolate queste belle anse che rendono anche particolari le dimensioni infatti l'orologio è contenuto a 39 di diametro ma il lag to lag è molto importante rispetto a quello che è il diametro della cassa infatti grazie a queste lunghe anse arriva 48 e 8 poi può essere una scelta stilistica che piace o piace meno questa è per quanto riguarda le altre dimensioni abbiamo 12.8 mm di spessore 95 96 grammi di peso chiaramente con la soluzione più leggera per quanto riguarda la messa al polso quindi con il cinturino in tela chiaramente con bracciale o altri cinturini il peso sale andiamo velocemente ad analizzare quella che è la parte a contatto con il polso quindi la parte posteriore in questo caso anche il fondello rifinitura beat blasted uguale e quindi allineata quella della cassa tantissime le indicazioni incise per in centrale poi ve ne dico due quelle secondo me un po più interessanti ovvero swiss made che è qualcosa sempre da evidenziare e poi quello che è il dato di water resistant abbiamo detto essere un sub quindi 200 metri ragazzi potrete andare oltre alla doccia fare il bagno al mare magari qualche tuffo torniamo a girare l'orologio occupiamoci di uno degli elementi wow a mio modo di vedere anche questo fortemente caratterizzato la vedete questa ghiera che si sviluppa in modo importante nella sua verticalità da questo effetto pvd black con micro pallinatura della cassa quasi effetto biscotto è interessante tra l'altro essendo ampia a livello verticale la dimensione della ghiera rende comodissima la presa un grip eccezionale bello anche l'inserto ghiera particolare stainless steel con un layer sovrastante di composto da nitruro di titanio che lo rende quindi particolarmente resistivo ai graffi davvero non male tra l'altro 120 scatti allineati in modo perfetto con il quadrante gli indici su ghiera zero lag buono il feed veramente eccezionale vetro zaffiro flat antiriflesso va a proteggere un quadrante che è un altro degli elementi che secondo me tendono a dare un po di eleganza a questo sub ovvero il quadrante lo vedete nero pastello quindi sobrio con pochissimi elementi indicazioni nel senso e quelle poche per esempio ore 6 perena ore 12 sono davvero contenute nelle dimensioni lo vedete lo sono anche gli indici sono questi quadrati molto dimensionalmente molto limitate e la stessa la stessa data lo vedete nero quindi disco data nero su quadrante nero con data bianca lo rendono secondo me abbastanza sobrio tutto bianco anche le sfere quindi contrasto bianco nero le rendono la lettura dell'ora davvero immediata altro punto di forza dell'orologio super luminova bg w 9 bene bene diciamo la classica effetto azzurro che un po meno intenso di norma rispetto al c3 però un pochino più elegante calcolando come è pensato l'orologio ci sta la corona è bella logata di nuovo abbiamo il nostro beat blasted anche su corona a vite chiaramente essendo 200 metri movimento movimento e sellita sv200 tra l'altro regolato in casa pezzo per pezzo da loro quindi fanno anche un certo tipo di controllo qualità belle conoscete le caratteristiche io lo definisco uno dei cloni nobili dell'età 28 24 quindi 28.800 alternanze 38 ore di riserva di carica chiaramente automatica chiaramente possibilità di manuale chiaramente fermo macchina 26 jewels eccetera 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 quindi swiss movement e orologio swiss made per cingere al polso e questo orologio per da diverse possibilità diverse alternative ribadisco vi rimando al sito io ve ne faccio vedere due il nato e il bracciale nato generalmente io non amo il nato semplicemente perché aumenta di molto i volumi e l'ingombro al polso non lo amo certo è che è leggero e molto comodo quindi confortevole sì meno bello a vedersi più bello generalmente a vedersi il bracciale anche se più pesante e meno confortevole nel caso specifico il bracciale non è assolutamente male ma c'è un ma importante se si sceglie di andare verso una particolare rifinitura come nel caso specifico di questo prodotto diventa poi un problema abbinargli un bracciale che non ha la stessa rifinitura perché il disallineamento tra rifinitura è molto importante e non lo rende come dire non lo rende piacevole alla vista non lo rende equilibrato non so come definirlo non mi fa impazzire sembra proprio che venga preso un così di fatto viene preso un bracciale standard e messo in bundle con l'orologio non mi ha convinto comunque ci sono altre possibilità ripadisco andate sul loro sito le conclusioni beh cosa devo dirvi le caratteristiche ve le ho snocciolate un ottimo orologio ben pensato ben disegnato ben realizzato swiss movement swiss made eccetera 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 a proposito di swiss viene sul sito proposto in franchi svizzeri sono 689 a partire da 689 a salire si traducono ahimè il franco fino a un po di tempo fa il franco svizzero valeva qualcosa meno dell'euro ora vale qualcosa più dell'euro e quindi si traduce in circa 710 vale la pena spendere questi soldi per questo orologio e secondo me il prezzo il suo poi la scelta è vostra vi chiedo di mettere nelle conclusioni che cosa ne pensate un saluto alla prossima ciao